vero mi chiede se io avrei mai partecipato a una trasmissione come missione seduzione posso dire di sì perché con una conduttrice dovrebbe ovviamente essere una conduttrice tipo lori c'è sempre da fare una grande esperienza si può comunque sempre cogliere qualcosa che può stuzzicare la nostra fantasia quindi la risposta è sì